Non aveva capito. Ho letto che per Karl Marx 1818-1883 il termine alienazione designa il processo tipico del capitalismo per cui gli oggetti prodotti dall'uomo trasformati in merci iniziano a vivere secondo leggi proprie e stranee ai bisogni dell'uomo. Perché? Commento. Perché Marx non aveva capito che il capitalismo, gli oggetti prodotti dall'uomo, le merci e le leggi che regolano le merci servono tutte a soddisfare i bisogni evolutivi dell'uomo.